Vittoria Piani, un buon esordio per quest'Italia Sì esatto, ho giocato discretamente bene, sono abbastanza felice di quello che ho fatto a parte gli errori soliti perché devo migliorare, posso dare un'altra Senti la squadra è sembrata un po' contratta e emozionata all'inizio però poi mano a mano per il passare dei minuti gli siete sciolti e sono venuti fuori i reali valori delle due squadre Esatto, all'inizio abbiamo dovuto prendere un po' le misure perché non eravamo abituate a questo campo anche durante gli allenamenti facevamo fatica però durante la partita siamo riuscite a controllare meglio la palla e alla fine siamo riusciti, quindi ce l'abbiamo fatta Senti, una cosa che ti è piaciuta dell'Italia e una cosa che ti è piaciuta un po' meglio? Beh, da parte mia la cosa che non mi è piaciuta è la mia battuta ovviamente perché l'ho sbagliata in troppo invece la cosa che mi è piaciuta di più è la grinta nonostante gli errori che abbiamo fatto continuavamo a credere cioè credevamo in noi stessi e quindi ce l'abbiamo fatta per questo Grazie Grazie a tutti